bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono Deilu e sono qui con Mortidani stiamo continuando il campionato master con la nostra depra tre panunese abbiamo tre vittorie, zero sconfitte, zero pareggi quindi finora un cammino perfetto anche se ne abbiamo simulate due, due di tre ne abbiamo simulate il controllo è complicatissimo mazzarani mazzarani, ho detto con un'enfasi che mi è lasciato giustare gilasca, gilasca, è lui, è lui, è il campionato no, l'avevo visto dentro guarda questo, guarda questo state tranquilli, non vi siete perso nessun gol ancora parità, zero zero ma che disini c'era di netta oddio, oddio eh vabbè ti sono distrato ti sono distrato perché devo dire che ti si fa tanto spingere, è un gioco non mi sono appena sintetizzati su un gioco c'è il biondino, c'è il biondino bravo ma cosa? ma cosa? ma cosa? ma cosa? ah ma, ma non l'ho te anche toccato ma era dall'altra parte così c'entra quello e vabbè oddio, oddio, oddio sicuro prova di testa eh, tutto hai visto il mio portiere si è mosso in maniera guarda l'altro è trovato qualche forte perché non corri perché sei una merda madonna 6.234 non è che il possesso palla si ci districciamo anche con il partito dei passaggi complicati tipo 56 bravo il secondo tempo è cominciato è colpa tua è colpa tua ha capito però io avevo fatto di là non so che non me l'aveva corretto guarda che sotto io avevo caricato bravo madonna ma porca troia povero mi ha rotto tutte le gambe il po' più era per me un po' di gente una bocca un quarto è stato uno stupro di gruppo Rossettini una cosa Rossettini una tippa mi ha fatto l'acquisto peggiore di sempre bello grande Rossettini comunque inizio laterale calcio d'angolo calcio d'angolo penso che può stare un po' più lontano però ma ti dà fastidi sì ora non va troppo no giusto giusto mi sento bene questo è il mio pensiero riguardante mezzo mezzo quanto ci ho messo no porca troia quanto senti fa che non c'era nessuno ha provato a ripetersi è l'incubo di ogni difesa era bravo no era provato a ripetersi è insomma una stronzata perché era per l'altro è raggellato ah c'hai ragione oh madonna oh madonna no 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 è finita la partita è chiaro dai non è andata neanche malissima abbiamo perso faccio ancora meno proprio totale proprio con 7 e mezzo è un po' è sempre un piacere assistere una partita come quella siamo comunque primi in classifica a pari punti con i secondi che sono della teccarina teccarina direi te no teccarina mi ha un po' di tempo per recuperare l'energia dalla vagnoresa che ha come simbolo un pollo o una gallina vedo se è un pollo forse dai portiamo così guarda questa questa maglia del loro salmone mi infastinisce mica poco si a me non mi dispiace mi fa schifo però non mi voglio mi la voglio è assai se è rosa rossa gialla effettivamente come la descrivi? se salmone è schifo ma no salmone è marzo si magari loro hanno fatto tutto il resto del gioco ma che roba vabbè troppo forte non ce n'è non ce n'è cosa ci facciamo ancora qui? ci dovrebbero promuovere direttamente madonna che locchia come può anche rimanere in area una palla così lenta? eh sarà il pallone quello lì il superterno i palloncini? eh più o meno la stossa tiro c'è un misurale di gioco invece no madonna è troppo guarda ormai eh qua gel azca può fare pure asus mamma che parla di merda pericolo cosa? pericolo cosa? nella sua difesa pericolo cosa? il primo tempo non è andato male questa è di partita? no non c'è stata una superiore esercizio vedremo a fine partita madonna con quelli piedi passa madonna profice centrale si vanno al decinquesimo madonna l'ho provato però è che ha una linea esagerata sì però si stavano per trovare il gol proprio alla fine ma che caccio dici? hanno lottato dal cuore e questo si palla guarda si porta più di centenaire ha messo in istante i giocatori ha sbaffo ha sbaffo ha questo schiattarella devo mettere un figo a vero una squadra un miglioramento ha già 72 costa niente sì ma vuoi mettere a vero in squadra una schiattarella perché sbaffo sbaffo però è una pippa schiattarella non ha un nome della radbro la schiattarella è base spremonese ma a parte della spremonese scuola di schiattarella vediamo no vabbè poi la prendiamo poi quando non c'ho neanche i soldi quindi non mi pare che sia finita cacciamercato è finito c'era già avanzamento ma lasciamo così madonna perché stranberg venite di stranberg vediamo chi che possa mettere proprio su stranberg Udadeschi che è una pippa no guarda c'è stranberg così c'è stranberg visto che sotto non c'è nessun altro e poi c'è un po' di pacchini e borcani vai mettere i borcani va eh spero quella è sembra il mio studio vai 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 grazie grazie che cosa ha fatto su qualche difensore stranberg un appestaggio un appestaggio ok sta piovendo ho visto ecco forse non mi era già l'altra tira tira madonna e vabbè che cazzini ti l'ha fatto però lei stava stato un difensore tutta la vita è quello nuovo sì è vero è vero madonna che mi ha tirato sì personale io ve lo rivedere rivedere è arrivato quello di merda l'ha fatto ma è corretta non è tanto ma ti ha dato una mila esageratissima io ero è vero è vero vicino è vero no 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 è vero gollo ma c'è il portiere che è finito non ha avuto nessun difensore per me per gli attaccanti madonna poi fa sfinto sta maglia arancione e rosa è un pugnino in occhio è un inguardabile c'è arrivato il convento di delle di trepanimese di trepanime sì in casino c'è il trepanimo che ne è davanti guarda su guarda su ci ho visto ci ho visto ci ho visto no era buono tira ti lascia guarda 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 aia rigore rigore da lì è rosso vira fuori sto cartellino eh minchia con qualche stile di la spot che è fatto pazzo uno li ha fatto così con la testa con gli zubbac così vabbè non so vabbè ecco il fisco dell'arbitro inizia il secondo tempo no stai tranquillo eh guarda lì alza la bandierina guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì giocatore guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì siamo al 94esimo sono venuti di recupero ma si coglioni arbitro di merda eh ma vogliono farci 96esimo da quanto dobbiamo andare avanti stiamo in quella cosa tira di tutto poi il fisco non c'è più tempo finisce qui non c'è più tempo è stato fin troppo Francia è stata dura la partita è sempre stata in bini alla fine la partita è sempre stata in bini non ha toccato una palla cazzola con quella voce anche il anche il commentatore cazzola Ronaldo addirittura Cristiano si proprio direi che comunque questo video questa puntata del della nostra Master League con questa voce suave è molto tranquillo no per questa puntata può finire qua noi ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao